benvenuti nella nuova cucina di vivo gluten free felicissimi oggi di presentarvi questa torta spaziale alle ciliegie in padella iscrivetevi al canale guardate quanto è buona guardate le ciliegie sono già lavate semplicemente le tagliamo a metà eliminiamo il nocciolo diciamo che è l'operazione più lunga per fare questa torta dopodiché il resto è velocissimo però soprattutto se avete queste ciliegie così belle e le nostre sono nostrane dell'albero veramente ne vale la pena non mi dite che sono fissata con la cannella guardate qua è un infuso di ciliegie e cannella neanche a farla apposta quindi vi propongo di aggiungere all'impasto di questa torta un mezzo cucchiaino di cannella provate e fatemi sapere e scrivetelo nei commenti com'è io la prossima che faccio ce la metto sicuro è minimo buccia di limone che rinfresca in estate ci va ci vuole sempre la buccia di limone dopodiché vado ad aggiungere mentre le fruste vanno anche il mix senza glutine che ho utilizzato io ma potete utilizzare la farina che più vista comoda per questo tipo di dolce e nel mio caso bicarbonato e cremo tartaro in alternativa mezza bustina di lievito per dolci va benissimo alla fine della ricetta trovi il mix che ho utilizzato io è un mix senza glutine se ti interessa sapere come fare una sostituzione per avere una torta con farine naturali non ho provato ma mi sento di consigliarti un 75 80 g di farina di riso è una quarantina di grammi di amido di mais o fecola di patate o amido di riso o amido di tapioca se vuoi chiedermi altre varianti fallo pure nei commenti grazie a tutti grazie a tutti ho fatto un sacco di prove per questo video e sono venute fuori un sacco di torte in padella buonissime abbiamo pensato di fare un video con dei segreti generici per fare tutte le torte in padella che vuoi se ti piace l'idea faccelo sapere con un mi piace e noi lo mettiamo in onda come fai a guardarlo iscriviti e attiva la campanella così sicuramente non lo perderai giusto ok ci vediamo alla prossima ricetta vi saluto e vi auguro una buona estate con le vostre ciliegie ciao ma come buona estate? ci vediamo fra un paio di giorni sì però insomma chi magari passa e va non va bene che passi e vai iscriviti al canale ecco sei uscito dalla luce è così ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti